Ciao a tutti, sono Sara Gensante, ufficio stampa della Fanucce di Dore e sono qui, siamo qui alla fiera Più Libri Più Liberi partecipiamo a questo evento dal primo anno che è stato istituito e siamo molto contenti di essere qui in rappresentanza dell'editoria indipendente che crediamo sia una cosa molto importante da portare avanti, da sostenere sia a livello territoriale, come è questa fiera, ne è l'esempio sia a livello digitale, e questa è una delle ragioni per cui mi state ascoltando se state guardando Facebook della fiera perché crediamo che il rapporto con il pubblico, il contatto con il pubblico, con i lettori e il dialogo continuo e costante con loro sia una delle ragioni più importanti per essere presenti non soltanto per poter proporre e mostrare ai lettori tutte le nostre novità tutte le nostre pubblicazioni di catalogo, ma anche per conoscerli di persona per conoscere i loro gusti, per essere sempre attenti alle novità e alle mode e a tutto ciò che gli interessa maggiormente quindi a nome della Fanucce di Dore e anche della Legge di Dore che non so se sapete è il nostro secondo marchio editoriale dedicato al mondo femminile quindi a Romance e alla Women Fiction, a Romance in tutte le sue accezioni siamo molto contenti di essere qui e ringraziamo per l'attenzione che viene data ai nostri titoli e speriamo di essere presenti anche nei prossimi anni ciao a tutti